Anche la Puglia, al pari di altre sette regioni italiane, ha finalmente la sua legge per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne. Ieri il Consiglio regionale ha licenziato all'unanimità il testo normativo composto da 20 articoli che rafforza la rite di servizi territoriali a sostegno delle vittime di violenza di genere e promuove la libertà e l'autodeterminazione delle donne. Tante le novità previste dalla rite di interventi promossa dalla regione con uno stanziamento di 900.000 euro. Si va dall'assistenza economica e alloggiativa all'inserimento lavorativo sino alla creazione di un fondo per il sostegno anche economico delle vittime, ha spiegato l'assessore alla sanità e al welfare Elena Gentile agli ultimi giorni del suo mandato prima di partire per Bruxelles. L'assistenza alloggiativa è indispensabile quando si rende necessario l'allontanamento della donna sola o con figli minori dall'abitazione familiare, mentre l'assistenza economica diventa indispensabile sino a quando non si riesca a strutturare un percorso di reinserimento sociolavorativo. Abbiamo anche previsto, conclude l'assessore, percorsi privilegiati di accesso per le vittime di violenza negli ospedali e nelle ASL, che saranno dotati di personale competente e adeguatamente formato. All'interno del sistema di governance è inoltre prevista una task force permanente con il compito di predisporre strumenti operativi ed integrati per l'attuazione delle norme. Ruolo Cardi ne viene affidato al corretto e costante monitoraggio del fenomeno, con una sezione dedicata dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, nonché al lavoro di prevenzione da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il supporto degli operatori della comunicazione. Il testo di legge interviene anche sotto il profilo della formazione e della sensibilizzazione, fissando una serie di principi che mirano a rafforzare la cultura del rispetto, dell'educazione all'affettività e la decostruzione degli stereotipi di genere. Prevista infine la facoltà dell'amministrazione regionale di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per violenza, con l'impegno di devolvere l'eventuale risarcimento del danno alle vittime degli atti di violenza. Finalmente con questa legge aiutiamo le donne vittime di abusi ad uscire dal tunnel nel quale sono precipitate, ha sottolineato il presidente della regione Vendola, grazie ad una rite di servizi su tutto il territorio regionale. Non solo questa legge attraverso una serie di attività consente quel monitoraggio costante del fenomeno necessario a rompere il silenzio e a far sì che ogni donna capisca a quanto denunciare sia un suo diritto sacrosanto.